Serve di tutto in questa fase cruciale. Testa, cuore, carattere ed idee. Serve soprattutto una prova d'orgoglio alla Florigel Fuzzalandria per centrare un traguardo di notevole spessore. I play-off nel campionato di Serie C1 di Calcio 5, il più importante palcoscenico a livello regionale. Ci spera e ci crede la squadra allenata da Michele Bizzoca, che nel penultimo atto della stagione regolare ospiterà domani pomeriggio, fischio di inizio al Pallasport di Corso Germania previsto alle ore 16, la polisportiva Five Bitonto con pagine ad un passo dalla conferma diretta della categoria. Non possono fare calcoli e non vogliono dipendere dagli altri risultati gli andriesi. Attualmente quarti in graduatoria, un eventuale successo, inutile nasconderlo, varrebbe il visto per gli spareggi promozioni anche in considerazione dell'impegno agevole che attende la Florigel nell'ultima puntata, sabato 30 marzo a Talsano, contro una squadra già matematicamente retrocessa. L'occasione di domani, insomma, merita di essere sfruttata. L'ho preparata fisicamente e non serve a questo punto del campionato, è tutto a livello morale, perché far capire ai ragazzi che è importante questa vittoria per poter realizzare questo sogno, questo obiettivo che dal primo giorno del campionato ci siamo prefissati. Serve di tutto, dicevamo, testa cuore, carattere ed idee. Serve soprattutto il sostegno dei propri tifosi al Fuzzalandria per centrare un traguardo sfumato per poco nella passata stagione. Ora invece è davvero alla portata per i biancazzurri che i playoff di C1 vogliono esserci per poi magari indossare anche i panni di Milavagante. I nostri tifosi, i nostri piccoli tifosi, che sono tanti per noi, loro ci saranno. Un appello a tutti quanti per aiutare questa squadra, che è una partita molto molto importante per loro. Aiutarli a livello anche di pubblico, di incoraggiamento, perché è veramente importante per poter accedere a questi playoff, che è un traguardo abbastanza prestigioso.